Salve amici appassionati Football Manager, qui con voi come sempre c'è Mac94, ovviamente Football Manager Italia Siamo qui di nuovo su Football Manager 2015, per continuare la serie mostriamo le vostre carriere Diciamo che è un ritorno su Football Manager 2015, come vi avevo già detto la scorsa volta Oggi andremo a vedere la carriera di Pier Giorgio, una carriera molto molto interessante Una volta tanto vediamo una carriera con i Big Money del Paris Angelman Diciamo veramente un'ottima carriera per quanto riguarda Pier Giorgio appunto Veramente ha costruito una bellissima squadra che adesso mano a mano andremo a vedere Poi nel prossimo episodio ritorneremo su Football Manager 2016, però sinceramente devo ancora vedere le squadre Ci sono due carriere molto lunghe e molto interessanti che oramai mi porto da febbraio Però sto ancora aspettando il momento giusto per farvele vedere, perché sono due carriere veramente molto belle Ma ovviamente come tutte queste che fino adesso abbiamo visto tutti insieme Detto questo, sto ancora pensando all'episodio di oggi, perché sto registrando mercoledì Del Wigan, brucia ancora il 5-1 col City, però vabbè, non fa niente Detto questo, comunque andiamo a vedere la carriera di Pier Giorgio Mariotti Una ottima carriera come potete ben vedere, diciamo, non è che ha vinto pochi trofei Anzi, voglio farvi vedere proprio il profilo 19 trofei, 2 miglior allenatore dell'anno Quindi ragazzi, veramente tanta tanta roba So che comunque aveva tanti soldi, però vincere in comunque, stiamo nel 2018 4-5 anni, 19 trofei, non è proprio da tutti Quindi comunque complimenti vivissimi Come possiamo vedere, il primo anno forse già vince l'allenatore dell'anno Veramente tanta tanta roba Il primo anno vince Se me lo fa vedere La Ligue 1, la Coppa di Francia E il trofeo dei campioni francese Quindi tanta roba Poi il secondo anno vince Se me ce la fa vedere Allora Trofeo dei campioni francesi Coppa di Lega francese Coppa di Francia e Ligue 1 Sì, perché ci sono 3 trofei in Francia Nazionali Poi il terzo anno vince Trofeo dei campioni francesi Coppa di Lega francese Ligue 1, Coppa di Francia E Coppa dei campioni Che è la Champions League Quindi al terzo anno Acchiappa la Champions Tanta tanta roba Poi nel 2016 l'Italia Però devo dire che nessuno fino ad adesso ha vinto nulla con la nazionale Fra le carriere che abbiamo visto fino ad adesso E se ne è andato dall'Italia Diciamo che fino ad adesso nessuno piace tanto La carriera nazionale Devo dire che è un po' diversa rispetto alla carriera per club E anche a me piace molto di più quella per club Però comunque è interessante La cosa curiosa e sfiziosa è che È arrivato Mazzarri Mazzarri lo sappiamo tutti Uno dei suoi schemi preferiti è il 5-3-2 Comunque la difesa a 3 E appunto l'Italia ha preso la sua impronta Con Gabriele Silva Comunque curiosa come nazionale E stiamo dicendo del PSG Diciamo il quarto anno invece vince Una caterva di trofei Allora Facciamo un attimo un elenco se me lo fa vedere Allora trofeo dei campioni francesi Supercoppa europea Mondiale per club Coppa di Lega francese Coppa di Francia E League One Non riesce a rivincere la Champions League Però ragazzi Porca miseria Guardate qua Complimenti vivissimi Un'altra volta migliore allenatore dell'anno E poi quest'anno che stiamo a dicembre Ha vinto forse Chi ha vinto? Qualche coppa francese Infatti trofeo dei campioni francesi Quindi diciamo che Fino ad adesso non c'è stato un anno Dove non ha vinto niente Anzi il minimo è tre coppe Diciamo che tre coppe proprio Buttate lì Invece poi Tanta tanta roba Veramente Complimenti E andiamo a vedere un po' Il calendario Diciamo che c'è poco da vedere Perché in League One E veramente Fa sfaceli Coppa di Lega pure Vabbè non c'è proprio niente da vedere Però possiamo vedere invece Se non sbaglio Un'uscita Dalla Champions League Perché qua Andiamo a vedere Un'Europa Diciamo che Il primo anno Ha nel girone Bayer Monaco Liverpool E Karab Agdam Non so che squadra sia Una squadra a zera Quindi diciamo che Non è stato molto fortunato Infatti le prime due Le perde Poi abbo vince E Poi riperde un'altra volta Col Bayern Infatti passano Liverpool e Bayern Anche se poi all'ultima La perde E In Europa Batte l'Ajax Batte il Lille Poi Perde la finale Con il Lille Che aveva eliminato In Europa League Poi batte il Dnipro E Ah vince Coppa di Francia Semifinale Eurok No viene eliminato Dal Tottenham Addirittura perdendo In trasferta 1 a 4 Porca miseria Poi invece Vince 1 a 0 In semifinale Ma vabbè Era un'impresa Difficilissima Però vabbè Poi vince la Coppa di Francia Quindi tanta tanta roba Diciamo che vediamo Il calendario Non tanto per la Liga Perché Guardate qua Tutte vittorie E più che altro Per il percorso europeo Il secondo anno Diciamo che Un girone un po' più easy Con Napoli Dinamo E Bayern E' abbonato al Bayern Però ci pareggia Poi lo batte addirittura Poi batte il Napoli Poi batte il Dinamo Poi 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 Vabbè In Coppa di Francia Fa sfaceli Perde con Lille Che diciamo che è la sua bestia nera Coppa dei campioni Con l'Atletico Madrid E' stato veramente sfigato Visto che sicuramente E' passato per primo In Coppa Però vabbè Riesce a batterlo Relativamente Facilmente Poi acchiappa pure il Real Madrid Che lo butta fuori Sfortunato Perché l'andata Sicuramente è una partita Molto interessante 3 a 3 E poi perde 1 a 0 Con gol di Cristiano Ronaldo Poi vabbè Vince tutto Insomma Non c'è niente da dire Il terzo anno Acchiappa Il Victoria Il Basilea Che distrugge 6 a 0 Addirittura Un 8 a 0 Col Montebe Però vabbè Raga Non vi faccio vedere Tutte le partite Di campionato Perché sicuramente Appunto ci saranno 9 a 0 Però vabbè Questa non è di campionato Ma di Coppa Invece Champions League Diciamo il terzo anno Un girone relativamente No relativamente Molto molto semplice Con Victoria Basilea E Actobe Una squadra Cazzaca Quindi Diciamo è stato Molto molto fortunato Infatti mi sa che fa Punteggio pieno Poi acchiappa Il Barcellona Però è sfigato proprio Cioè Nei gironi È stato fortunatissimo Poi invece È stato molto sfortunato Con il Barcellona Però Guardate qua Trasferta 1 a 4 In casa Vince 5 a 1 Complimenti vivissimi Col gol del Pocioloco Al centosettesimo minuto Veramente Complimenti Poi Inter Che diciamo vince Non proprio facilmente Però Lo supera Poi il Real Madrid Questa volta si vendica E Madonna mia Stavo vedendo Coppa campioni finale 7 a 0 Col Bayer Monaco Ma che minchia ha fatto Porca miseria Il record Mi sa in Champions League Sì perché mi pare che il record Prima di questo Fosse di 4 a 0 Se non sbaglio Complimenti Veramente tanta roba Poi vabbè Coppa dei campioni Cagliari Oddio Cagliari Salisburgo E Olimpiakos Un'altra volta Molto molto fortunato In Coppa dei campioni Vabbè raga Porca miseria Mondiale per il club 9 a 0 Poi vabbè Col Boca È sempre un posti Col Boca Diciamo che è una bella squadretta Questa volta invece Poi in Champions È stato fortunato Ha chiappato il Granada Vabbè Comunque diciamo Molto molto interessante Il suo percorso Però Poi perde Con Manchester City Ai rigori Che sfiga E poi vabbè Qui Campionato A metà Coppa dei campioni Adittura 10 a 0 Col Celta Mamma mia Che roba Poi anche il Dortmund Diciamo che è la squadra Più forte Infatti pareggia 1 a 1 Però veramente ragazzi Ora che andremo a vedere La squadra Io già l'ho vista Un po' E direte Porca miseria Che squadra che ha Ero molto curioso Più che altro Del Del percorso In Champions Perché Diciamo che In Ligan Non c'è Non c'è Secondo me Quasi sfizio E' più che altro Interessante Vedere La Champions Per questo Ho dato spazio Solo a quello E' vabbè Come potete ben vedere 90 punti 101 102 104 Quindi Veramente Non c'è Storia Non c'è nulla Da vedere 119 gol fatti Addirittura Un DR Di 91 Ha quasi doppiato Il Monaco Quindi veramente Ragazzi C'è Poco da vedere In Ligan Ero molto curioso Più che altro Per il percorso In Champions In Champions Non Championship E' veramente Ha fatto Grandi cose E' stato Alcune volte Fortunato Alcune volte Molto molto Sfortunato Però Comunque Ha già vinto Una Champions Quindi veramente Complimenti Comunque Il primo anno Compra Kieran Gibbs Che nel 2015 Era veramente Vabbè Tutto ora Un terzino sinistro Molto molto veloce E interessante Poi Sammi che dirà Che se ben vi ricordate Lo comprammo anche noi Con lo Schalke Ed è veramente Un centropista Straordinario Noi lo pagamo 50 milioni Lui solo 14 Quindi Poi diciamo Che si è Liberato Di ingaggi Molto molto importanti Di tipo Maxwell E Tiago Motta Anche se non sbaglio Pure Camara Non prende proprio poco E poi Thomas Martin Vabbè Mi sa che è un giovinastro Il secondo anno Compra Un po' come Nella realtà Sergi Aurier Che è un terzino destro Molto molto interessante Tyler Blackett Parametro 0 Porca miseria Un difensore centrale Che è preso a 0 Comunque Relativamente Interessante Poi Otamendi A 50 milioni Però vabbè Un difensore centrale Della Madonna Gesero Triguez Che è preso a 2 spicci E comunque È un trequartista Un ala Molto interessante Mitrovic Che nel 2015 Era veramente Un crack Un fortissimo E William Dal Chelsea Pure lui Un trequartista Comunque Molto molto interessante Che poi ha venduto A 20 milioni Diciamo però Che il suo Ha fatto Commedie e voto Veramente Strabilianti Il secondo anno Non Il secondo anno Diciamo che Anche qui Come eccezioni Nulla di Eclatante Tranne appunto La cessione Di Zlatan Ibraimovic Ma più che altro Perché si è elevato Sicuramente Di un ingaggio Non Grande Di più Se non sbaglio Era tipo di 26 milioni Quindi Da un lato Lo posso capire Ibraimovic È un mostro Però 26 milioni Raga Non fanno Mai schifo Poi vabbè Diciamo che Al terzo anno Si è un po' Più sbizzarrito Comprando a 105 milioni Neymar Che veramente Inutile ve lo dica È un mostro Sacro È fortissimo Vabbè Ma non Non credo Lo debba dire io Sergio Ramos Sergio Ramos Che Vabbè Raga È inutile Sono giocatori Che oramai conosciamo O meglio Che conosciamo tutti Poi ha preso Alberto Moreno In prestito Forse gli serviva Un terzino sinistro Poi Un certo Raga Garrett Bale Giusto così Per sfizio Spendendo 367 milioni Totali Ma Garrett Bale Pure qui Veramente Giocatore Mamma mia Che squadra Che ha fatto Raga Veramente ha fatto Una squadra assurda Poi Belek Ha preso due spicci L'ha preso Veramente con pochissimo Però secondo me Un secondo Terzo portiere Niente male E poi Dopo un acquisto Di 215 mila euro Un acquisto Da Devo dire la verità Più di 150 milioni In quanto Ha dato 115 milioni Più pastore Quindi Diciamo che Pogba Gli è costato Almeno 150 Però raga Guardate qua Guardate qua Beh ma Ce l'avevamo anche noi Nello Schalke Il buon Pogba È veramente Tanta 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 Roba Fortissimo E però Ha venduto Lucas Lucas Moura Al Barcellona Addirittura 80 milioni Quindi Diciamo Si è pagato Un po' Garrett Bale Poi ha ceduto Gesea E 18 milioni Marchinhos A 55 E si è preso Sergio Ramos Quindi Diciamo che Ha dato Un giocatore giovane Per prendere uno Un po' più vecchio Ma Sergio Ramos Sicuramente Gli ha dato Quella esperienza Che gli è servita Poi per vincere La Champions E poi vabbè Pastore Come già vi ho detto Poi Acquisti Così Giusto per gradire Thiago A parametro zero Thiago Alcantara Dal Bayern Porca miseria Che centrocampista Bo Benzema 37 milioni Che cacchio Mamma mia Fortissimo E poi Un altro giocatore Che conosciamo bene Perché ce l'abbiamo avuto Nel nostro Schalke Anche se Io mi pare Che lo pagammo Veramente poco Noi Tipo 30 milioni Non mi ricordo Però mi ricordo Solamente che Un mostro Fortissimo Poi vabbè Ter Stegen Giusto così E Gabriel Paulista Però mi pare Che era in prestito Poi come eccessione Mitrovic A 45 milioni Matuidi A 15 Pocioloco A Real Madrid Addirittura Adesso non gioca Che peccato Malizzi Veramente È un giocatore Che mi piace tanto Sirigu Thiago Silva Thiago Silva Venduto a 3 milioni e 6 Beh ancora Tanta tanta roba Anche se ha 34 anni E poi Sirigu Venduto a 24 milioni Devo dire Comunque è stata Un buon Una buona Cessione Poi l'ultimo mercato Ha comprato Yanuzai Che è un altro Giovane Molto interessante Jones Difensore Anche lui Anche lui veramente Assurdo Ramsey Dall'Arsenal Non mi ricordo Cioè lo stavamo Per prendere pure noi Se non sbaglio Lo Schalke Non mi ricordo Comunque è un altro Giocatore molto Molto forte E poi Kurzawa Terzino sinistro Non c'è niente da dire Kurzawa pure È un bel Un bel difessore Veramente molto forte E poi Ha venduto Willian Che dirà E Macan Traoré Insomma Niente di Niente di Che Diciamo che PSG Veramente Sforna soldi In quantità Però ragazzi Comunque Secondo me Quando uno fa queste carriere Il divertente È poi Confrontarsi In Champions Perché Ligan Diciamo che C'è solo Il Monaco Il Monaco Che ti può mettere Bastogna fra le ruote Perché poi Il Lione Si è una signora squadra Però non c'ha I fondi Che hanno queste squadre Ci deve essere Tipo un miracolo Alla Leicester Però diciamo Che è un po' Diversa come cosa In quanto in Inghilterra Ci sono diverse squadre Forti Che si mettono Fra di loro I bastoni Fra le ruote Invece Alla Ligan Sono pochissime Le squadre Che possono Mettere in difficoltà Il PSG Il Lille Il Bordeaux Ma ragazzi È difficile Insomma Quindi diciamo Che la cosa più divertente È proprio la Champions Io Non mi ricordo Se l'aveva stoppato O no Questa carriera Comunque nel caso Gli auguro Di vincerne Tante e tante altre Abbiamo già parlato Tanto Quindi adesso Andiamo a vedere La tattica E poi ci possiamo Salutare Salutare Qui Allora In porta Tiene Ter Stegen Poi vabbè C'ha Areloa E come vi dissi Belek Che secondo me È un terzo quartiere Molto interessante Come terzino sinistro Kurzawa Che è veramente Fenomenale Otamendi e Jones Poi tiene in panca Lucas Ramos Scusate Sergio Ramos Stavo leggendo Lucas Digne Allora ho fatto un mix Sergio Ramos Lucas Digne Che è un altro terzino sinistro Veramente Molto molto interessante A destra Secondo me Dovrebbe migliorare qualcosa Non credo che Vanderbilt Sia il titolare Ma credo che lo sia Sergi Aurier Credo eh Non lo so Però io Così Così farei E comprerei Un altro Terzino destro Molto più forte Visto che comunque I soldi non gli mancano Tiene 53 milioni Quindi Ora sta prendendo Oscar Scambio Marco Verratti Chissà Chissà cosa farà Ehm Ah il Chelsea Forse ha fatto l'offerta Non lo so Vabbè comunque Terzino destro Io gli consiglio di prendere Poi vabbè c'ha Berratti Come regista Che E' una bestia Caballet Al centrocampo Che Non è male Eventualmente è molto valido Ovviamente Essendo un 32N Le caratteristiche Mano a mano Caleranno Poi vabbè raga Pogba Non c'è niente da dire Neymar Bale E' il Matador Cavani Poi al centrocampo C'ha Ramsey Che secondo me Metterà al posto di Caballet Credo eh Poi non lo so Poi c'ha Rabiot Che lo conosciamo molto bene C'ha Zard A posto di Neymar Al Bale Pensate a Zard In panca Con Benzema In panchina Quindi Pensate un po' Che ricambio Poi qua ci sta Baebek Che dovrebbe essere cresciuto Abbastanza Non è proprio fortissimo Però Male non è C'ha Tiago Alcantara Che sicuramente Userà Che Visto che è comunque Un giocatore molto interessante Gianluzai A posto di uno Fra comunque Gareth Bale E Neymar Quindi veramente Anche in panchina C'ha Una Grande Grande scelta David Luiz Pure In difesa Veramente Raga Non c'è niente da dire Ottima squadra Ottimi ricambi Diciamo Due squadre Una più forte Dell'altra E Comunque Devo dire Complimenti E detto questo Raga Io spero che il video Vi sia piaciuto E Come sempre Io vi invito a commentare A mettere mi piace A condividere E soprattutto A mandarmi le vostre carriere Tramite Facebook Da un po' che non ne ricevo Quindi raga Non vi dimenticate Di mandarmi le tramite Facebook Se non sapete come si fa Ve lo spiego Sempre tramite Facebook Quindi non abbiate problemi A contattarmi Ultimamente Non sto rispondendo Proprio a Velocità astronomiche Ma Già Ve l'ho detto Mille mila volte Un periodo un po' Pienotto E Però prima di salutarci Vediamo un attimo Le istruzioni Offensiva Flessibile Quest'è Quindi Ve le lascio vedere E come sempre Un saluto a Mike94 E ovviamente Football Manager Italia Ciao ragazzi